Ciao, come state? Bene. Questa è la prima domanda. Ne hai ancora due. Come vi chiamate? Roero Tropical a.k.a. Selva Biotopica. Questi sono i miei ciulo. Di cosa tratta questo nuovo vostro progetto? Cumbia, tambora e tutto quel che è la musica sudamericana. E come vi è venuto in mente di fare questo progetto? Ecco, sul riscaldamento globale è ora di portare il tropicale nel Roero. Ci portiamo avanti, visione futura. Allora, buona serata. Allora, buona serata.